Si narra che un tempo una giovane fanciulla vivesse in una piccola casa con le sue sorelle e i suoi gatti. Ella aveva un sogno, scrivere un sacco di libri e metter su famiglia. Vorrei sposarti, disse un giorno la fanciulla all'uomo che amava. Ti sposerò se riuscirai a vincere almeno una partita su Fortnite, rispose lui. Da quel giorno la ragazza iniziò a giocare a Fortnite, ogni giorno, per ore e ore. Per quanto migliorasse, per quanto ci provasse, al massimo riusciva ad arrivare seconda. Eppure lei continuava a sperare, a provarci, a lottare. Ma niente, finiva sempre male, sempre. Sposami lo stesso, disse lei all'uomo che amava. Apprezzo gli sforzi che faccio per te. Ma io li apprezzo, rispondeva lui. Però sono un uomo di parola. Il matrimonio richiede impegno e dedizione. E la tua vittoria mi mostrerà che tu sei capace di impegnarti e dedicarti a qualcosa a cui tieni davvero. La fanciulla continuò a giocare a Fortnite ogni giorno. Ogni settimana. Ogni mese. Ogni anno. Piano piano, le sue sorelle si sposarono e se ne andarono. Lei rimase da sola in quella vecchia casa ormai decrepita. I primi capelli bianchi cominciarono a crescerle sulla testa. Persino i gatti finirono per abbandonarla. Solo un pestifero norvegese delle foreste rimase al suo fianco. Sposami, prima che diventi troppo vecchia, disse lei all'uomo che amava. Hai vinto almeno una volta a Fortnite? Le chiese lui. La fanciulla se ne andò sconsolata a pregare la sua sorellina vampira di compiere un rituale per aiutarla a vincere a Fortnite. Mi dispiace, rispose la sorella, ma è più facile che un daltonico veda un filo marrone in mezzo a mille fili rossi piuttosto che tu riesca a fare una vittoria reale. La fanciulla, ormai divenuta canuta, continuò a giocare. E più giocava, più sperava. E più giocava, e più perdeva. E più le sue speranze venivano infrante. La sua autostima, il suo sorriso, la sua pazienza. Tutto finiva spazzato via dall'ennesima sconfitta. Gli anni passarono, e alla fine accadde l'impensabile. L'Epic Games fallì, e tutti i server di Fortnite vennero chiusi all'improvviso. La fanciulla si disperò. Pianse tutte le sue lacrime, e poi andò dall'uomo che amava. Hanno chiuso i server di Fortnite, disse sconsolata. Non potrò mai più fare una vittoria reale. E allora vuol dire che non potrò mai sposarti, disse lui. Mi dispiace. Il cuore della fanciulla si trasformò in ghiaccio, e morì davanti agli occhi dell'amato. No! Disse lui. Ti sposerò, ma non morire. Ma ormai era troppo tardi. L'uomo, disperato, supplicò la morte di lasciar vivere la fanciulla. Ma sì, disse la morte. A lei questo favore lo posso anche fare. In fondo, è già morta tante volte su Fortnite, che posso anche lasciarla stare. E fu così, che la fanciulla non morì, e l'uomo, se la dovette sposare. Fine. Morale della storia... Desinstallate Fortnite! Ciao, ciao!